Ecco a voi, alle 6 del mattino, Trezzetti e Gennaro, al Porto Olimpico, con il nostro amico, sopra la bicicletta. Perché il Tassinale non c'è. Trezzetti, cosa pensi di questa esperienza in bici? Ecco, l'ha visto insieme a che sta accendendo il coscio, il Mercedes-Benz che sta fermando l'altro dietro. Hola! Hola Zika! Trebacka! Trebacka! Ciao, il nostro Mercedes classe C... Ferrari o Jumbo Jet. Hola! Ciao! Cotriamo le gambe, cotriamo le gambe. Una volta che tu dici manca ciao, Gennaro. Bella gamba, brutta faccia. Vai, la cucchiacca! Ui, 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 ui! Gennaro, la cucchiacca! Gennaro, la cucchiacca! Gennaro, la cucchiacca! Gennaro, la cucchiacca! Ciao! 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 Dolore il sanguino Sessi ben saluto al nostro amico Saluto